con l'altro. Nicola che cosa vorresti dire a chi ti sta seguendo, a chi ti segue in generale in tutti i tuoi studi, a chi ti segue e legge i tuoi libri e soprattutto a chi in questo momento sta seguendo l'intervista? Ti ringrazio di questo suggerimento proposta. Allora io penso che la cosa più sincera è che potrei sottoporre a chi ci sta seguendo adesso in rete o chi ci seguirà in futuro e di provare con tutto il coraggio che abbiamo a disposizione di tuffarci coraggiosamente nelle relazioni umane perché nelle relazioni umane c'è qualcosa di identitario che ci attende, nel senso noi sosteniamo che la nostra identità è figlia delle nostre relazioni e di conseguenza la nostra identità è subordinata alle relazioni e noi dobbiamo fare in modo che le relazioni divengano quello scenario di intervento psichico, sociale, lavorativo o mistico per chi ha questa vocazione, quello scenario dove veramente poterci autorealizzare intimamente. Ecco c'è un altro che ci attende per creare un'istanza nuova, relazionale e identitaria. E vista la cadenza io sono certa che l'anno prossimo ci rincontreremo. Sarà un onore essere qui anche il prossimo anno. Grazie mille Nicola Peruglio, è stato veramente un piacere. Cosmo Empatia e senza dimenticare naturalmente un senatore in entanglement e poi anche il precedente, l'energetismo segreto della vita. Grazie.